Buongiorno a tutti siamo qui per l'analisi partita della supercoppa italiana alla finale che si giocherà domani ore di 7.30 italiane quindi la ADOA dovrebbe essere le 7.30 del pomeriggio. Allora prima di passare all'analisi partita vi rimasto gli ultimi risultati della Juventus e gli ultimi risultati del Milan Eccoci qui dopo avervi fatto vedere gli ultimi risultati del Milan e della Juventus passiamo all'analisi completa della supercoppa italiana alla finale Allora la Ju arriva dalla come sapete dalla vittoria importante 3 a 0 contro la Roma invece il Milan arriva da un pareggio cacalingo 0 a 0 contro l'Atalanta quindi un partita che vedo molto combattuto da tutte e due squadre il Milan che vuole giocarsi l'unico trofeo della stagione e manca da troppo tempo questo trofeo infatti l'ultimo trofeo che ha vinto il Milan è stato proprio la supercoppa italiana vinta nel 2011 se non sbaglio mi siamo a Pechino contro l'internet derby quindi vinta mi siamo a 2 a 1 con gol di Ibrahimovic per regio di Snyder da una punizione se ricordo bene e poi gol di Boateng finita 2 a 1 con il Milan allora nel 2011 sono passati 5 anni e qualche mese ma mi ricordo il mese esatto in cui si è creata allora la supercoppa italiana vedo più fuori da un po' leggermente da Juventus ma il Milan potrebbe vincerla questa coppa potrebbe vincerla sfruttando la voglia che ha quest'anno questa società di fare bene perchè quest'anno il Milan sembra ruinato il Milan come pronostico io per essere sincero vedo una partita combattuta che al termine dei 90 minuti finirà in pareggio per me si deciderà oi che ci rigoro a recuperare questa partita allora fare un pronostico chi la vincerà per me mi sembra un po' difficile pronosticare o vittoria Milano o vittoria Juve quindi non faccio questo tipo di pronostico ma io perchè ai 90 minuti c'è un pareggio poi la storia della partita ci può far cambiare questo mio pronostico ma intanto per me è un pareggio comunque se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace iscrivetevi al canale commentate condividete seguitevi sulla mia pagina facebook e instagram e sul mio canale telegram e forza mia ne bene ne male e andiamo a vincere questa supercoppa dai io ci credo anche se il pareggio rimane come pronostico Milano anche se il pareggio rimane come pronostico Milano grazie 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 grazie